Ma quale dialetto? Tutti i giorni lottiamo con le famiglie per evitare l'uso di espressioni dialettali a casa e favorire l'insegnamento dell'italiano per i nostri studenti. Tra l'altro è un insegnamento previsto tra le attività extracurricolari e voglio vedere se c'è una scuola che, tra riduzioni d'organico e di ore dedicate alla didattica, si cimenterà nell'insegnamento di questa materia. E' quanto affermano i docenti dell'Istituto socio-psicopedagogico Vico di Ragusa che, nell'anonimato, commentano causticamente l'annuncio Urbi e Torbi che l'assessore regionale Mario Centorino ha dato ieri sull'avvio da quest'anno all'interno dei programmi didattici dell'insegnamento destinato alla promozione, la valorizzazione della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano. Abbiamo già avviato lo studio della Divina Commedia e lingua originale, confermono i docenti, tra i programmi d'italiano è previsto anche l'insegnamento dei maggiori poeti e scrittori siciliani. Da qui ad arrivare al dialetto però ce ne corre la circolare emanata dall'assessorato regionale all'istruzione d'intesa con l'ufficio scolastico regionale e indirizzata a tutti gli istituti siciliani, dunque sembra riscuotere pochi consensi in provincia. Tra l'altro l'insegnamento è facoltativo e dovrebbe inserirsi per quattro ore settimanali nel tradizionale insegnamento di storia ed italiano. Al momento non sono disponibili i dati certi in merito al successo riscosso dall'iniziativa ma tra gli innumerevoli problemi in carico agli istituti scolastici in questo difficile avvio danno proprio il dialetto siciliano per superare il vittimismo, come ha commentato Nicola D'Agostino, deputato regionale MPA e primo firmatario della proposta di legge approvata il 18 maggio scorso per docenti e studenti, proprio l'ultimo di una lunga serie di problemi.